eccoci qua scusate un attimo è un pezziologo, l'ho recendito una via amore, quasi fatto, è in tre colpi mi passi il pappacallo, per favore ecco, eh siamo stati tecnici del computer siamo stati medici, io, Andrea casca in un buco siamo stati educatrici di esilinito con due figli adolescenti a casa siamo stati degli psicologi a tempo pie siamo stati dei bravi interior designer abbiamo riorganizzato le nostre case siamo stati anche degli abiti barbieri ciao siamo stati per visitare i nostri metodi di musica siamo diventati allenatori di calcio sono diventato giardiniere, tutto fare, istruttore educazione fisica ed io, oltre al medico, adesso sono anche una cuota una pasticcera, una maestra, un'alloculopetista e una giusta trucco H24, 7 giorni su 7 con questo sottofondo mamma papà mamma papà siamo diventati la serie tv preferita dai nonni mamma, i miei nodi siamo stati anche insegnanti adesso ci siamo perché in tutto questo tempo noi siamo stati anche truccatori un tempo eravamo attori Antonio lavare le mani i bambini per favore, pronto? e invece adesso siamo stati chef ho fatto della mia cucinina e mio teatro e poi siamo stati anche costruttori di percorsi e destacoli inventori ed esploratori grazie a tutti